questo è l'ultimo incontro che abbiamo prima che l'azione appunto avvenga direttamente sulla pista di monza da domani avremo le prime prove libere e in occasione delle prime prove libere vedremo tutte le modifiche che saranno presenti sulle varie monoposto ma in particolar modo sulla ferrari che cosa però già sappiamo in anteprima sappiamo che la ferrari porterà qui a monza quindi da domani un propulsore modificato in che modo in primis spendendo due gettoni appunto di quei famosi gettoni di sviluppo consentiti dalla federazione questi due gettoni sono stati spesi nel basamento del motore in particolar modo il motore della ferrari avrà un basamento molto più stretto rispetto a quello attuale per quale motivo la ferrari ha optato per questa scelta per due motivi una per una migliore gestione come si suol dire del packaging ovvero di tutti gli accessori che abbiamo intorno al motore da le pompe a anche tutti i cablaggi relativi poi a quelli che sono le due unità mg cioè quelle che costituiscono appunto l'airs quindi l'elemento ibrido del motore la parte elettrica appunto ibrida del motore e poi anche la dislocazione di quelle che sono le batterie dell'ibrido ma avere un basamento stretto consente e qui adesso faccio uno schizzo di una vista dall'alto di avere un'aerodinamica migliore se questo noi immaginiamo di schizzare appunto il propulsore visto dall'alto e faccio vedere il basamento come stretto avere degli organi accessori all'interno diciamo dell'ingombro generato dalle testate fa sì che aerodinamicamente le fiancate possano essere molto sciancrate di conseguenza liberando maggiormente questa zona del fondo vettura antistante le ruote posteriori garantendo che cosa da un lato maggiore scorrebolezza dall'altro lato ulteriore carico aerodinamico ma generato dal corpo vettura perché i flussi d'aria passanti in questa posizione alimentano meglio l'ala posteriore e soprattutto l'estrazione d'aria dal diffusore inferiore oltre alle modifiche relative al basamento del motore e che quindi avranno come abbiamo spiegato poc'anzi un'influenza aerodinamica sicuramente ci sono delle modifiche di carattere puramente aerodinamico sulla sf 15t in particolar modo abbiamo già potuto vedere in belgio nel gran premio di due settimane fa l'adozione di una nuova ala anteriore questa ala fondamentalmente e qui ne disegno solamente praticamente la metà era caratterizzata da un profilo principale fondamentalmente non molto differente da quello adottato nelle precedenti gare quindi con una soffiatura molto evidente centralmente questo per creare una depressione nella parte inferiore ma con una serie di flap di cui quello più alto l'estremo aveva questo andamento ovvero estremamente ridotta la sua corda all'estremità quindi nella zona vicina alle paratie laterali e con invece un incremento nella zona centrale questo perché perché il circuito di spa al pari di quello di monza leggermente meno veloce di quello di monza richiede bassissimo carico aerodinamico ma nello stesso tempo nei veloci curvoni è richiesta a un certo livello di appoggio avere la parte centrale della monoposto con carico e la parte esterna dove si crea meno bloccaggio aerodinamico è assolutamente fondamentale per mantenere quanto abbiamo detto poc'anzi ovvero un livello di carico efficace ma nello stesso tempo un'estrema scorrevolezza sui lunghi rettilinei questa conformazione d'ala molto probabilmente sarà utilizzata domani a partire delle prime prove libere del mattino ma messa in raffronto ad una evoluzione sicuramente caratterizzata da un'ulteriore diminuzione della corda di questo flap per vedere quale delle due garantirà comunque il livello minimo di carico necessario per mantenere la monoposto aderente al terreno e quindi garantire anche motricità e soprattutto in fase di frenata un appoggio e quale sarà quella più efficace sotto il profilo delle prestazioni assolute in termini di velocità massima grazie a tutti grazie a tutti